Oggi diamo il bentornato a Benur Tondini dell'opposizione di Cavriana. Bentornato nei nostri studi. Buongiorno e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Gli ascoltatori sono sempre, come sempre, invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo solo un paio delle coordinate, il numero per gli sms e i messaggi whatsapp, sia l'uno che l'altro, il 338 17 19 105. Vi invitiamo a usare anche la chat di Facebook, cercate il gazzettino Nuove Temporadio, ci potete seguire tramite YouTube che è applicata a Facebook, ci potete scrivere, potete usare sia la messaggeria che lasciare i commenti sotto al link che trovate, è il più in alto di tutti, quindi lo trovate immediatamente. Allora, di cosa parliamo? Del Consiglio Comunale? Parliamo del Consiglio Comunale perché io vengo sempre ospite qua da voi dopo un Consiglio Comunale, il mio appuntamento cade sempre all'incirca dopo un Consiglio Comunale, quindi vorrei parlare dell'ultimo che si è tenuto il 28 di ottobre con dei punti d'ordine giorno importantissimi perché si è parlato della realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico a modernamento del centro sportivo, quindi importantissimo come argomento, approvazione del piano diritto allo studio, la convenzione con il nuovo segretario, bene, quindi oggetti importanti in ordine giorno, bene, il Sindaco era assente per la seconda volta consecutiva. Ora, io mi chiedo, visto che si sta parlando qua di essere attaccati al proprio ruolo, se il Sindaco è il Vice Sindaco o è il Sindaco. In Consiglio precedente c'erano sette presenti e sei assenti, perché la convocazione era stata fatta alle 5 del pomeriggio, convocazione fatta dal Vice Sindaco e oggi nasce il sospetto che fosse il Sindaco o allora non fosse presente perché si era un po' arrabbiato su questa convocazione alle 5 del pomeriggio, quindi presumo, quindi è una mia presunzione. L'ultimo consiglio, parliamo di argomenti importanti, dove ogni giorno sui quotidiani escono il centro sportivo, il centro sportivo, il centro sportivo e il Sindaco non era presente. Quindi io credo che questa sia una cosa gravissima, è un atteggiamento di strafottenza su un argomento di grande, grande importanza. In quel consiglio proprio si è parlato di centro sportivo e noi abbiamo sollevato, sapendo che abbiamo visioni completamente diverse, noi volevamo fare il centro in via Madonna della Porta, in una zona fuori Cavriana, ma perché a centro sportivo non intendiamo un campo di calcio, un campo da tennis. Noi come centro sportivo intendiamo un'aggregazione di attività sportive che abbiano anche un futuro prossimo, quindi che si possa ampliare. Provo a farvi un esempio. Guidi solo, 4 campi coperti più una piattaforma coperta, 2 campi da calcio, un campo di beach volley, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la nostra scelta di Madonna della Porta, dovuta anche ai tempi a una scelta perché la zona era potenzialmente inquinata, oggi questo sembra risolto, ma entrerà poi in merito a quello che riguarda la bonifica, la dichiarazione di bonifica fatta sempre dal vice sindaco che dichiara bonifica effettuata o che è al centro sportivo. Ma il guaio è che il vice sindaco, proprio che si vedeva che era nel ruolo di sindaco con la tranquillità, con la sicurezza, ha dichiarato, siccome ne abbiamo sollevato un quesito, ma si potranno coprire queste attrezzature sportive, perché Cavriana oggi come oggi è sprovvista di una copertura su qualsiasi attività sportiva, quindi non si può fare attività nel periodo invernale. Anzi, dopo vi inviterei a fare un giro, a vedere la palestra, come è stata sistemata, hanno stravolto il nostro progetto, ma anche di questo ne parliamo poi dopo. Quindi ho fatto mettere agli atti al segretario, che era l'ultima seduta, il dottor Bavutti, che metta agli atti che il vice sindaco ha dichiarato che lì si potranno fare coperture. Lui ha detto, visto il test unico entri locali, si possono fare coperture provvisorie per due o tre mesi. Quindi mi immagino fare un campo da calcio, un campo da tennis, e continuiamo a mettere e togliere delle coperture, perché devono essere per forza rimuovibili, in automatico. Perché quando noi abbiamo chiesto al sovrintendente, allora il dottor Mazzeri, ci aveva detto che è impossibile fare coperture sotto la pieve, c'è la fornace, quindi nel cono ottico non si devono avere queste ostruzioni visive. Oggi sembra tutto risolto. Vedremo alla fine quando i campi saranno costruiti e vediamo che tipo di copertura. Ripeto, si stanno spendendo 400-500 mila euro di attrezzatura sportiva con la possibilità di utilizzarle solo nel periodo estivo. Un assurdo, è un assurdo e non mi stancherò mai di dirlo. La nostra idea era quella di fare un centro sportivo con la capacità di poter ospitare dal palazzetto a campi da tennis, no campo, a campi da tennis o altre strutture, con la possibilità di coprirle, quindi piattaforme polivalenti. Questo e mi fermo. E quindi questa certezza, questa sicurezza, il vice sindaco l'ha fatta mettere gli atti, perché un domani se dovessero, ma poi anche oggi siamo qua in radio, quindi questo resterà gli atti di tutta la popolazione che ci sta ascoltando, è che il vice sindaco ha dichiarato la possibilità di coprire le strutture che verranno fatte in via della Pieve. E quindi questa è una cosa che io ritengo sempre assurda, ma se il mondo deve andare così lo lasciamo andare. Parlo un attimo di bonifica. Si parla di bonifica. Facciamo una cosa, parliamone tra poco, ci fermiamo un attimino e ci fermiamo in una seconda parte. Va bene. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, siamo assieme a Benur Tondini dell'opposizione di Cavriana e si stava parlando allora della bonifica dell'area in zona Pieve. Sì, volevo un attimo inquadrare per chi ci sta ascoltando. Viale della Pieve, sulla sinistra c'è un'azienda dismessa, ex Fais, giusto? A più anti c'è il campo di Tamburello, più alto circa 5 metri della Fais, c'è la via centrale che è Viale Pieve, sulla destra c'è l'area individuata per fare il centro sportivo. Nel 2012, l'ultima conferenza di servizi che abbiamo fatto con l'ARPA, quest'area qua è risultata ancora potenzialmente inquinata. Oggi loro cantano alla bonifica, abbiamo bonificato. Vorrei ricordare che nel 2014 sono cambiate le regole di ingaggio. Cosa vuol dire? Che hanno separato, la normativa ha separato le analisi dell'acqua da quella della terra. Quindi loro oggi hanno fatto due hotspot a sud ovest, cioè sotto la fornace circa, e quindi per dire sì abbiamo bonificato l'area. Mi piacerebbe ricordare che la Fais, l'azienda quella contaminata, perché i cromi facevano le cromature, eccetera, è più alta circa un metro, un metro e mezzo rispetto al piano di campagna dove verrà costruito il centro sportivo. Quindi se ci dovesse essere un problema di inquinamento, certo arriverrebbe dalla parte più alta che va verso il basso. Quindi io non farei mai un centro sportivo o delle costruzioni in una zona dove potrebbe essere inquinata dalla parte superiore. Quindi prima farei bonificare dall'azienda l'azienda, l'alettorale dell'azienda, e dopo farei il centro sportivo. Ma questa è un'altra storia. Hanno deciso di percorrere questa strada, gliela lasciamo percorrere, quindi lo spot che hanno rimosso sono due buchi, quindi è un punto di contaminazione che riguarda soprattutto, visto che è stata fatta nella zona sud-ovest, che è sotto la fornace, riguarda le polveri e le ceneri bruciate negli anni alla fornace, perché bruciavano le pietre e facevano la caccia. Quindi niente a che vedere con il cromo esavalente o tutte le problematiche che c'erano ai tempi dell'amministrazione Righetti che ha determinato il blocco di quell'area qua. Quindi non diciamo abbiamo bonificato con 17 mila euro. Per fare un piano di bonifica, per fare un piano di caratterizzazione di bonifica, ce ne vogliono altri che 17 mila euro. Questa è la loro scelta, lasciamo che vadano in questa direzione. Quindi che facciano, che non lo chiamino centro sportivo, che chiamano ampiamente attrezzature sportive, ma non centro sportivo. Centro sportivo è tutt'altra cosa, dove c'è in primis un'aggregazione, dove c'è anche la possibilità di fare dei conveni, delle conferenze, e dove c'è la possibilità anche di gestire la ristorazione, eccetera. Allora, Graziano ha scritto, Salve Benuri, il sindaco ha detto che il centro sportivo è un progetto delle precedenti amministrazioni. Il progetto sportivo che era previsto lì era stato previsto dall'amministrazione Arighetti, che ha ricevuto un contributo in conto interessi, quindi vuol dire un abbattimento di interessi, nel 2004-2005, che però tutto si è bloccato, perché la zona è risultata potenzialmente inquinata. Quindi non mi sono inventato io questa cosa. Noi abbiamo fatto, ai tempi di quando ero sindaco, un'ulteriore conferenza di servizi, con la presenza di due esponenti delle opposizioni, che allora erano Bonoldi e Gianetti, dove l'ARPA ha dichiarato se voi fate un ulteriore piano di caratterizzazione potrebbe anche cambiare, bisogna andare a verificare. Nel 2014, a metà anno, quindi quando loro erano già amministratori, sono cambiate le regole per quanto riguarda i piani di caratterizzazione. Hanno separato l'analisi dell'acqua da quelle della terra. E quindi in questo modo pare che l'ARPA gli abbia dato l'autorizzazione di dire che non è più inquinata. Però io ripeto, parlo personalmente, sapendo che la parte di inquinamento veniva dall'alto, dall'azienda che faceva cromatura e la mia zona di intervento è più bassa, farei sistemare prima l'azienda, prima di fare della trattatura sportiva dall'altra parte. Ma questo è un mio pensiero. Loro proseguono su questa. Comunque il centro sportivo era previsto lì e noi l'abbiamo spostato per quel motivo. Per quel motivo. E agli atti, agli atti, nel 2012 c'è una conferenza dei servizi, quindi non è perché ci siamo inventati. In quel contesto io ero riuscito a parlare con Don Antonio Mazzi e ci aveva donato, cioè ci aveva donato, ha donato la comunità di Cavriano i famosi 20.000 metri che torneranno ad essere di proprietà ancora dei centri giovanili se entro il 2017 non verrà costruito il nulla. Quindi è una perita anche di risorse da questa parte. Ma va bene. Roberto scrive la palestra comunale è in pessime condizioni, insomma è brutta. Stiamo usando un eufemismo per una parola più forte. Si hanno usato un altro termine. E mi sembra che l'amministrazione faccia ben poco oltre che sperare di raccogliere le mosine ma per piacere. Anche sulla palestra quando noi ce ne siamo andati abbiamo lasciato un progetto e dei contributi a fondo perduto per la sistemazione. C'era un progetto che prevedeva spogliatoi e riqualificazione totale del manto di gioco della palestra e anche riscaldamento, impiantistiche e quant'altro. Nei consigli passati sempre il vice sindaco ha dichiarato che passando sotto un torrente un fosso sotto la palestra. Siccome lui è un ragazzino giocato col manto disastrato possono giocare anche gli altri col manto disastrato o manto di gioco e non ci sono le risorse. Vorrei ricordare che hanno devoluto più di 100.000 euro per fare asfaltature che potevano essere benissimo devoluti per mettere a posto il piano di gioco della palestra. Oggi la palestra ha degli spogliatoi nuovi dove è stata cambiata tutta la viabilità di entrate e di uscita. Quindi le scuole quando entrano entrano direttamente in palestra. Se uno sta giocando e sta facendo una partita questi aprono la porta e gli si prendono una padonata in faccia. Quelli esterni hanno dovuto fare delle modifiche e spostare la scala e quindi ci stanno anche meno macchine. Le chiedo hanno stravolto completamente il progetto per far vedere che spendiamo di meno ma hanno speso meno perché hanno fatto molto meno di quello che era previsto. Quindi era meglio tenere chiusa la palestra sei mesi in più ma fare i lavori completamente finiti perché ricordo che è l'unica palestra a Cavriana che non è neppure omologata perché non ha le dimensioni per essere omologata per le federazioni ma è l'unica palestra per fare attività sportiva invernale. Quindi l'hanno sistemata dopo un anno e mezzo e non possono dire tondini perché loro stanno governando da un anno e mezzo i lavori li hanno fatto loro quindi le scelte che hanno fatto sono solo ed esclusivamente responsabilità loro. Oggi la palestra è in uno stato indecente. Indecente. Allora vediamo un attimino altri argomenti ancora tra poco daremo anche voce a tanti messaggi che sono arrivati vorrei chiederle anche dei parcheggi possiamo parlare anche di questo perché so che c'è un parcheggio particolare ma sì fa sempre parte dei proclami articolo sul giornale qui il giornalista che è un vostro concittadino scrive Cavriana grande sensibilità un posto rosa un parcheggio rosa per le donne per le donne Cavriana per le donne Stato quindi c'è un posto dedicato alle donne a Cavriana quindi vicino al posto della macchina della polizia della polizia locale c'è un posto rosa peccato che quindi obbligano ricordo che su tutta la piazza Castello c'è divietto di sosta quindi la cosa è molto bigotta obbligano le donne a parcheggiare nel parcheggio rosa mentre tutti gli altri se lei fa un giro in piazza e mi creda io ho delle fotografie quindi parlo con anche della documentazione tutti parcheggiano in piazza c'è divietto di sosta quando dove vogliono e in qualsiasi momento è la giornata quindi non mi facciano venire da ridere questa è solo è solo propaganda sarebbe opportuno che cominciassero a far rispettare le regole soprattutto a qualche d'uno che è amministratore o che è vicino all'amministrazione che parcheggia regolarmente l'automezzo o il camioncino di lavoro in mezzo alla piazza quindi questo è il grande senso di civiltà che c'è a Cavriana certo allora e poi parliamo anche di imprese agricole un poco un altro proclama che è stato pubblicato su entrambi i quotidiani mantovani Cavriana guarda al futuro agricolo ok all'espansione di un allevamento si arriverà a 400.000 uova al giorno grandissima grandissima operazione peccato che ricordo che il 90% delle delle attività avicunicole sono in mano a imprenditori non agricoli sono in mano industriali che producono fanno produrre uova per conto delle grandi aziende non faccio nomi nell'articolo si parla che si dà la possibilità di ampliare una realtà perché demolisce una parte di quelle vecchie vorrei ricordare che l'imprenditore o gli imprenditori che fanno parte di questo stabilimento quindi non facciamo nomi sono un po' come delle bandiere nel senso quando c'erano le tondine sventolavano le bandiere sparavano a zero contro i futuri amministratori oggi che sono i futuri amministratori sono già adeguati sono già adeguati quindi sono le bandiere vanno dove va la corrente però è opportuno ricordare che se hanno potuto riqualificare lo stabilimento di produzione di uova è perché noi li abbiamo obbligati con l'ASL e l'ARPA a una completamente distruzione degli immobili vecchi e riqualificazione di tutti gli immobili in maniera all'avanguardia quindi c'è uno stabilimento all'avanguardia e qui non se ne discute ma la parte di recupero ambientale era già prevista nel primo progetto quindi che non vengono a raccontarmi che gli danno la possibilità oggi di ampliare perché recupera le parti esistenti vecchie perché era già una cosa concordata prima non c'erano di fare nessun ampliamento vorrei ricordare anche a chi si vanta che Cavriana avrà un futuro agricolo quanti posti di lavoro crea un'attività come questa uno forse due ok le polline dove le spostiamo le portiamo nei centri quindi attenzione quindi la prossima volta vorrei che parlassimo anche di cosa vuol dire aiutare il mondo agricolo perché sono usciti con anche aiuteremo il mondo agricolo abbattendo i costi amministrativi per gli ampliamenti io se fosse un'imprenditura agricola mi riterrei offeso su questa cosa quindi sono bazzeccole sono bazzecole ma vorrei che la gente capisse che questo non porta futuro perché la maggior parte degli impianti a vicunicoli sono o di produzione di uova sono in mano ai imprenditori non agricoli sono in mano ai industriali che fanno produrre le uova punto mi fermo allora c'è il l'area che dice salve però voi partecipate agli incontri pubblici io vi vedo poco in paese e in comune allora noi partecipiamo agli incontri del consiglio comunale non partecipiamo agli incontri oppure partecipiamo a qualcuno agli incontri per conto del gruppo civico per Cavriana però basta andare a vedere le fotografie che pubblicano sui vari siti del comune per vedere che affluenza di persone c'è agli incontri quindi più che gli amministratori o chi sta già controllando perché ricordo che chi fa l'opposizione è un organo di controllo controlla l'operato della maggioranza lo fa in ogni caso quindi più che noi essere presenti sarebbe opportuno che ci fosse la gente presente agli incontri pubblici quindi carissima Ilaria giusto io spero lei si sia presentata ai vari incontri e che abbia detto la sua agli incontri noi comunque sul pezzo ci siamo sia che siamo presenti sia che non ci siamo perché controlliamo comunque il lavoro della maggioranza allora dunque parlando del centro sportivo è arrivato il messaggio di Laura che diceva salve il problema grosso è che poi lì ci giocano i nostri ragazzi non so se centro sportivo o forse o forse la palestra addirittura dunque altro messaggio Piazza Castello è finalmente a posto questi sono i fatti l'invidia nelle parole la verità nei fatti non c'è nessuna invidia perché se dovessimo fare il conto delle opere che abbiamo fatto io mi porto sempre quando vengo in radio il mio riso conto 2009-2014 lo potete trovare sul sito vedete quante opere abbiamo rifatto sette tetti che sono sette tetti che vogliono dire dalla torre alla casa cimiteriale alle case di utilizzo popolare eccetera quindi che nessuno che nessuno sono lavori che non sono in piazza ma che comunque abbiamo sistemato e abbiamo speso fior fior di migliaia di euro per mantenere il patrimonio comunale quindi non siamo invidiosi ogni amministrazione deve fare l'ordinarietà oggi sistemare la piazza è un'operazione ordinaria di amministrazione poi questa è una curiosità hanno speso soldi per spegnere il riscaldamento col telefono quando come tutte le scuole basta un normalissimo termostato temporizzato da 30 euro saluti e già che ci sono allora le leggo un altro messaggio posso chiedere come mai la maggioranza dica che il polo scolastico è una priorità ma se poi si facesse le vecchie scuole che fine farebbero i soliti edifici sventrati e cadenti punti di domanda per questo erano dei punti noi abbiamo fatto un'azione forte quando eravamo amministratori abbiamo tolto dal triennale delle opere pubbliche la costruzione del polo scolastico mi creda abbiamo preso critiche allora ma è stata una scelta che senso ha oggi per Cavriana fare un plesso scolastico che se voi andate a vedervi il triennale delle opere è un investimento di 4 milioni di euro quindi 3 milioni potrebbero sembra che possano arrivare da Giornalombardia è un milione di euro è un mutuo che deve accendere il comune per far fronte alle spese dico spendere 4 milioni di euro in un momento come questo dove sarebbe opportuno puntare a altri servizi e piuttosto mettersi d'accordo con i comuni nei prossimi anni al massimo di costruire o di allinearsi con i comuni per fare un qualcosa insieme e qui si continua a dire ma perché? perché sono tutte cose dell'amministrazione antecedenti quella Tondini la nostra e tra i personaggi che fagocitano gli amministratori locali oggi ci sono ancora dei personaggi di vecchio stampo che soffiano cercano di fare un po' di portarli sulle cose che non sono riuscite portare in fondo loro e questa è un'altra di quelle cose che è assurdo quando uno sta amministrando deve assumersi la responsabilità di amministrare e fare le proprie scelte altro messaggio bravi la scelta di aiutare la nostra banda è bella grazie ah sì abbiamo fatto l'avevamo detto in consiglio comunale abbiamo deciso di donare i tre componenti dell'opposizione Benur Tondini Cobelli Fulvio Beattini Vittorio di donare gettoni di presenza del consiglio comunale a ogni anno una situazione diversa in questo contesto la banda musicale quest'anno ha fatto un grande investimento delle divise sappiamo che hanno speso tantissimi soldi quindi abbiamo voluto essergli vicino alla banda donando oltre di più di quello che agitano di presenza perlomeno per adottare una divisa della banda musicale appunto altro messaggio ma la Proloco esiste ancora ci sono altre associazioni che sono nate guarda caso dopo le elezioni punto di domanda ci sono altre associazioni che sono nate dopo sono molto vicine all'amministrazione locale di oggi poi vediamo un altro sono veramente tanti sono molto freddo su questa cosa qua perché non vorrei accettare provocazioni non sta a me è la popolazione di Caviana che deve reagire su questa cosa non certo Benur Tondini leggo il messaggio di Claudio Cauzzi sindaco ha detto che la casetta dell'acqua costava di più di quanto rendesse e che per questo l'ha affidata a un privato ma allora anche il privato dovrebbe spendere di più di quanto non sono degli imprenditori che hanno deciso nella loro vita di metterci dei soldi quindi vanno in giro per tutta Italia a gestire le casette dell'acqua perché alla fine dell'anno ci rimettono di tanti soldi e loro fa piacere metterci dei soldi questa è una mia battuta ironica io avevo fatto un conto un conto della serva ma lo faccio ancora adesso la mia famiglia Benur Tondini con 5 figli ogni settimana ogni settimana vado a prendere circa 18 bottiglie da un litro e mezzo o la tessereina quindi fate il conto ci sono 1500 famiglie fate che solo no la metà ma solo 500 famiglie facessero la stessa la stessa operazione moltiplicato per lo 0,040 costell'acqua fate il conto cosa viene fuori quindi volere potere non hanno voluto gestirla perché l'ha fatta l'amministrazione Tondini e quindi si parla di invidia è un servizio pubblico per la comunità di Cavriano per la cittadinanza e anche per quelli sterni che hanno una crescita dell'acqua allora vediamo altri messaggi ancora un altro dice il sindaco Cauti si è mostrato molto attento al sociale secondo te dice è vero o è solo fumo? al sociale siamo tutti vicini è obbligatorio essere vicini al sociale tu non ti puoi ritirare tirare indietro dal sociale perché dall'assistente a persona alle persone anziane ai ragazzini a tutto quello che compete il sindaco è responsabile della salute di ogni cittadino del proprio paese quindi deve intervenire sia che il cittadino sia di nazionalità italiana sia che sia di nazionalità straniera straniera assolutamente e quindi questo andrà un po' contro quelle che sono le loro ideologie politiche assolutamente perché non vorrebbero aiutare gli extracomunitari allora siamo in chiusura ringraziamo moltissimo Benurra Tondini ringrazio sempre io voi per l'ospitalità che mi date e ci vediamo al prossimo appuntamento grazie buona giornata